Lady Gossip è pronta per darci un contenuto esclusivo, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Le ultime indiscrezioni nel mondo dello spettacolo rivelano che Antonella Fiordelisi, fresca delle riprese di Pechino Express, avrebbe segretamente ristabilito un contatto con il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria. La coppia, nata durante la settima edizione del Grande Fratello VIP, ha attraversato alti e bassi, diventando una delle più seguite e amate dai fan del programma. La storia tra Antonella ed Edoardo è stata caratterizzata da emozioni forti e momenti turbolenti, ma il loro legame ha sempre intrigato il pubblico. Prima dell'inizio delle riprese di Pechino Express, durante una puntata di Sweet Selassie, Edoardo aveva sorprendentemente ammesso di aver scritto un messaggio di auguri per la sua ex compagna. Un gesto che ha fatto sognare i fan di una possibile riconciliazione. Oggi, fonti attendibili rivelano che Edoardo si è nuovamente fatto sentire, questa volta via social, gettando le basi per un ritorno di fiamma. Su Twitter, numerosi fan hanno iniziato a sperare in una nuova pagina d'amore per i donnalisi. Tuttavia, al momento, non ci sono elementi concreti che confermino ufficialmente la riaccensione della loro relazione. Il mondo dei social è in fermento, e l'attesa di un possibile ritorno di fiamma tra Antonella e Edoardo tiene tutti con il fiato sospeso. Sarà amore o solo un'abile mossa di marketing? Lady Gossip seguirà da vicino gli sviluppi di questa intrigante vicenda, portando a voi tutti i dettagli e le ultime novità. Restate sintonizzati per scoprire se l'amore trionferà ancora una volta nel mondo del grande fratello V.